Grazie Grazie Attenzione Bravo ciccio No porca miseria Ok No Non so adesso Brutto scelto Eh è vero Il motore Il motore Il motore Il motore Inseguendo Beh va bene dai Vai, 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 bravo, bravo, va bene così. No, 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 non troppo. No, 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 no. Non face l'avete il problema. Oh, le maggiore. Ehi, voleva prenderlo da 10. Si fanno bene quella venta la balanza tesa. Era venuto a noi uno che era venuto qua. Punta! All'avattoria. Angolo, angolo! Bravo! Sì, sì, sì. Volevo! Ciao! Volevo! 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 Grande, grande, il maniere! Volevo che nel contrasto si è fatto male lì. Ginevola, sei quella che vive lì, sì? No! Purtroppo. È la che vive lì, di sonar. Grazie a tutti 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 Via